Dai! Ok Ok Hai fatto anche la rima I migliori in questo campo siamo noi Lui è il gatto e io la volvo e siamo in società Di noi ti puoi fidar Basta Eh, non mi la ricordo tu! Di nuovo, facciamo una cosa Tiro fuori il telefono per guardare il testo Ok, brava! Sei autorizzata Tanto sta facendo pubblica Canto sergente quando chiacchia Non era forse una cosa fu Gli ha conosciuti adesso Quindi gatto e la volpe di Ben Nato? Sì Ci sono quattro monete E noi scadiamo il concorso Per la celebrità Non vedi che è un vero affare Non perdere l'occasione Se no poi te ne pentirai Non capita tutti i giorni Di avere due consulenti Due Impresari Che si fanno il quattro per te Avanti, avanti Guarda come suona la chitarra, Sergi Ferma qua E non dare contatto Una formalità Tu ci cedi Tutti i diritti E noi faremo di te Un divo da Vittuare Brave! Belle! Come vai Tra me Tra me Tra me Tra me Tra me Tra me Tu hai dato Io o te Tra me In società Di noi Ti puoi fidare Non ci sto Per me I tuoi 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 Grazie ci sono quattro monete e ti esprimiamo al concorso della celebrità. Non farò fare, non perdere l'occasione, se non forse le trentirai. Non capirà tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che ti fanno in quanto a te. Avanti non perdere tempo, firma e va, è un normale contratto, è una formalità. Tu non sei lì, tu non sei lì, noi faremo di te, un vivo da Isparei. Se corri, dove vai? Se ci scordi per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la morte, siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Puoi parlare di te, i tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. E' una ditta specializzata, ma è il contratto e vedrai che non ti pentirai. Non crederebbe un vero affare, non perdere l'occasione, se non forse le trentirai. Non capirà tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che ti fanno in quanto a te. Avanti non perdere tempo, firma qua. Per formare il contratto, è una formalità. Tu ci sei di tutti i miei vittime e noi faremo di te, un vivo da Isparei. Perchè Pinocchio! Il Presidente a mangiare il nostro campo è il nostro campo. Non c'è bisogno di chiare il nostro campo. E allora no? E no, io questa roba non la mangio. Io a voi. Perché sono fatto. Mangia un pezzo di pane! Anna, hai visto un attimo. E che sta cosa vuoi? Sporti di cacca anche quelli? Eh? Sporti di cacca anche quelli? Sì. Sì. Allora quanta la doletta il tocco? No, a tutti. Io ho la maglia terra. oppure indietro papà? ma la colla questa la porti indietro a marzo? c'è la marzo dentro la mozza dai! dai! però voglio vedere se te ne è ma è l'unica che ti ha chiesti una cosa che poi mi ha chiesto vuoi stare fermo un attimo? no, non è bella no, non è tanto bella per la mascherina ma che era la via? me lo sento me lo sento guardati lo sento guardati, guardati mi piacciono mi sono la colla presa rapida ho la che poi ti metti a piangere ti metti buono da facciamola metterlo su giusto fuori la tengo ah qua ci sono le orecchie tassinelle la pancia la pancia la pancia non è il momento ah lo metto già vabbè quando arrivi in Italia i vari sono vabbè quando arrivi in Italia la pancia qui si ma qui si su sono La maniera è buona. ma ci abbiamo anche una pizzatrice c'è la banda no qua ho il topino che mi copre mi sembra che non si muova no, tutto a posto siamo a casa, carnevale di merda vado dal piano che c'è bombo nato arrivo da cadenda ricominciamo tutto da capo tutto 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 eh 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 vedete che ci saliamo più il pulo qui a pitch il più bellissima 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 caro Pinocchio sei tu che hai imbrogliato il tuo sito della voce sei tu che hai imbrogliato delle mentogne in cui stai spartificando guarda come sarebbe diventate diventate le monete mangio a fuoco se avessi dato questa al gas della volpe senza cercare di fare il tuo sei nel campo dei miei ragazzi si vedi Marianna si quando la vedi si vediamo come on come on come on viva la merda grande ragazzi i burattini ci siamo i dottori vicino al tempio i dottori stavano al tempio come no il dottore andava dal tempio partiti manda 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 i 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 e io la morale ti vado a narrare sei sotto i vestiti che andiamo a portare sempre di noi ti potrai fidare i 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 dai il fare un dimo dai il fare un dimo dai il fare parta c'è l'antenna su media non su Radio Maria ci siamo ci siamo gatto, volpe, pinocchio anche pasto manca la volta aspetta una vita che così adesso solo adesso un po' tu zucca sono troppo basso un, un, due, tre guido pacca anche per quest'anno siamo riusciti a fare qualcosa che come al solito stupiamo tutti rimarrà nella storia ma buttiamo un minuto io l'ho invitato tanto il prossimo anno non ci sarà più niente perché sarà finito il mondo il virus il virus è una corona è una corona guarda che colore è questa corona per tanto direi che come sempre riusciamo a essere superiori a qualsiasi virus ma direi ancora una frase del grillo parlante e vada Pinocchio non fidarti mai troppo di chi sembra troppo buono e ricordati che c'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo ascolta il tuo papà Pinocchio signore Alfieri fai un po' più di ferie e pelle Alfieri cica cica vota cica cica vota cica cica vota 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 a 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 prego peppo in esilizia lalala lalalala lalala lalala lalalala lalala 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. Stanzio Galleggio. Liberi. Finalmente possiamo andare a bere. Ognuno nel proprio bicchiere però. Non c'è il mio bicchiere. non lo buttiamo lo teniamo di ricordo picco